Sono cose che riguardano sempre la stessa cosa e cioè i rapporti di interesse economico per cui è nata recentemente questa abitudine di far intervenire un venditore delle proprie cose e quindi si è cambiato il rapporto fra artista e committente, ma che non è più neanche un committente perché trova la cosa già fatta. Anticamente questo non succedeva perché intanto i committenti erano pochissimi e forti economicamente per cui il rapporto era fra sempre artista e committente. Adesso, anche adesso si può dire che è così, ma non sempre, è sempre più facile vendere un quadro all'asta, ma non sono cose che interessano a me, mi sembra secondario questo discorso.